I palestinesi esultano dopo il voto al Consiglio di sicurezza dell'ONU che ha approvato una risoluzione contro le colonie ebraiche in Cisgiordania, determinante e storica l'astensione degli Stati Uniti che per la prima volta su questioni del genere non hanno posto il veto. Cosa vi consente di approvare una tale risoluzione che nega i nostri diritti eterni su Gerusalemme, ha detto il rappresentante israeliano Danny Dano. Questo Consiglio avrebbe avuto il coraggio di condannare i vostri rispettivi paesi per la costruzione di case nelle vostre rispettive capitali? L'ambasciatore palestinese all'ONU, Riyad Mansour, ha risposto. Dopo che per anni la legalità è stata calpestata, questa risoluzione è l'ultimo tentativo di preservare la soluzione due popoli, due Stati, rilanciando il processo di pace. Durissimo il premier israeliano Benjamin Netanyahu che ha definito vergognoso e assurdo questo voto, accusando l'amministrazione Obama uscente di aver collaborato con l'ONU alle spalle di Israele. Netanyahu, che non si è mai trovato bene con Obama, non vede l'ora di lavorare con Donald Trump. Del resto il presidente degli Stati Uniti eletto ha già fatto sapere che una volta alla Casa Bianca la musica sul Medio Oriente cambierà. La risoluzione definisce gli insediamenti non validi da un punto di vista legale e un ostacolo per il processo di pace in Medio Oriente. Il governo dello Stato ebraico ha preannunciato che non la rispetterà.